E che cosa voterete? E' scheda bianca, non c'è un accordo. Ma volete un accordo? Noi lo vogliamo nell'interesse del Paese, lo vogliamo perché siamo convinti che un risultato elettorale che assegna tre minoranze possa soltanto essere utile se queste tre minoranze riescano a comporre una maggioranza, altrimenti meglio il voto. Quale sarebbe la scelta migliore? Beh, questo io non mi permetto nemmeno di suggerirlo. La scelta migliore è quella che vede tutte le forze dell'arco parlamentare presenti e perché in questo momento le istituzioni hanno bisogno di tutti. Queste forze parlamentari sono l'espressione del voto popolare, quindi se si trovassero intesa coinvolgendo tutti sarebbe veramente lo specchio della realtà dell'Italia. Ma sui Grellini che annunciano battaglia a danno della stabilità del Paese, lei cosa si sentite di dire? A questo mi dispiace. Sono tanti giovani e io auguro loro che possano dire ciò che pensano e fare ciò che dicano.